Riqualificare e rigenerare il quartiere Angeli attraverso Ambience, il progetto nato con questo scopo dal Pitta Stori Lorenzo Ciulla, che già lo scorso anno aveva collaborato con le vicoline, ovvero le abitanti del quartiere Angeli, per realizzare un primo intervento. Questa volta la rete operativa si è ampliata e in questa seconda fase, insieme a loro, oltre agli appartenenti della comunità parrocchiale della Chiesa San Domenico e dei residenti, ci saranno anche l'Istituto Scolastico Vittorio Veneto, guidato dalla dirigente scolastica Laura Zurli, la sovrintendenza ai beni culturali e legambiente. Si interverrà sul quartiere attraverso arte e laboratori. Il progetto Ambience nasce da un'esigenza, che è quella di donare bellezza ad uno dei quartieri più storici della città, in questo caso il quartiere Angeli, dove io ci vivo e cerco di donare giorno dopo giorno per quello che posso qualcosa tramite l'arte. Ed ecco che, giusto qualche mese fa, con le signore del quartiere, chiamate Vicoline, siamo andati a realizzare un primo albero, un po' per gioco, che era un albero rivestito dalla lana. Io andrò a realizzare altri due alberi, di cui un albero libreria e un altro fatto di vasi, ma non posso svelarvi più di tanto. E Mauro Benincaso, un altro artista, andrà a realizzare un murales sempre all'interno del quartiere, e poi appunto Legambiente e Barbara Grillo inizieranno dei laboratori all'interno della scuola. Quindi è un po' la comunità che si unisce ancora di più. Determinante sarà l'intervento di Legambiente in questa ulteriore fase progettuale, che punterà a coinvolgere tutti, dai bambini agli adulti. Gli operatori di Legambiente invece si cureranno soprattutto di laboratori realizzati all'interno delle pertinenze, soprattutto all'interno delle pertinenze della scuola degli Angeli, con il coinvolgimento appunto dei bambini del quartiere della stessa scuola. Legambiente è anche impegnata su altri fronti, sempre sul quartiere Angeli. Ha presentato all'interno del bilancio partecipativo un progetto per realizzare un orto sociale, che ha superato la prima fase, quindi è stato ammesso alla seconda fase, che poi prevedrà una selezione pubblica. Così come è impegnata contro la guerra e per la pace a realizzare una corsa che coinvolgerà i quattro quartieri storici della città, che sono appunto quello degli Angeli, San Francesco, la Provvidenza e Santa Croce, una corsa appunto non agonistica, che realizzeremo proprio nei prossimi mesi, in periodo primaverile.